Musica Bella a tutti ragazzi qui è Giovedere Nessante e ben ritrovati nel mio canale Oggi siamo qui finalmente tornati con l'episodio numero 17 con la carriera allenatore con il Napoli su Tifa 19 Che cosa faremo oggi? Cercheremo di giocare più partite possibili Perché vorrei arrivare fino alla fine del mese di dicembre Tra l'altro vi anticipo subito che nel prossimo episodio inizieremo il mercato di gennaio E proprio qui mercoledì 1 gennaio 2020 cercheremo di fare la fondo finale per Lionel Messi In modo tale da prenderlo subito e da farlo esordire contro la Juventus di Cristiano Ronaldo Sembra tutto programmato, tutto perfetto, dobbiamo chiudere l'affare Messi in 4 giorni Questo però lo faremo nell'episodio prossimo Se lo volete subito domani lasciate un bel mi piace a questo video Vi lascio 10 secondi mentre sto parlando di scendere giù, lasciare un bel mi piace e arrivare a 7000 Perché il prossimo video sarà fondamentale Detto questo andiamo a sfidare il Midland, Middlesburg come si chiama, non lo so 7-5-2-1, formazione preparata e possiamo andare a giocare Bisogna vincere perché siamo al secondo posto e il Bayern Monaco ha la sfida contro il Benfica Quindi se lo batte ci fa un grande favore Pensiamo a noi però, siamo in trasferta, maglietta azzurra per noi può andare Questa qui è la squadra quindi e noi signori ci vediamo in campo E tutto pronto ragazzi, ci siamo, le squadre sono in campo e inizia adesso Midland-Napoli Mertens diventa buona per Cutrone che appoggia ottimamente per qualcuno poi Mertensola girata e pallone fuori, assist forse di Fabio Ruiz, non lo so Fabio Ruiz diventa buona per Mertens che appoggia per Artur che allaga dall'altro lato per Vinicius È buona, è buona, è buona, la sterzata a Vinicius, vi entra con il mancino che botta E pallone fuori ancora però con la deviazione Attenzione qui, perdono palla, Cutrone, allarga per Insigne Il tocco sotto di Lorenzo, non ci posso credere, Insigne allunga quel piede Questi si difendono bene, sono tutti chiusi Zilischi diventa buona per Insigne, non ce la fa più, siamo tutti stanchi E i giocatori che cadono a terra, Amsic di prima non ci credo se passava Se passava tutto male ci è andato in questa partita Tutto ragazzi, tutto, finisce 0-0 Mi sembra la partita contro la Stella Rossa Avete presente? Uguale Il Bayern Monaco pareggia 0-0 con il Benfica Non è successo niente, non è cambiato nulla Adesso c'è il Sassuolo, noi siamo a meno uno dall'Inter Anastasio ci chiede di giocare ma tu sei fuori di testa La formazione la vorrei confermare, tolgo solo Mertens che è stanco Al suo posto mi gioca Zilischi C.O.C. Dentro anche Amsic, per il resto tutti confermati Siamo ad un punto dal primo posto, non possiamo sbagliare questa partita Veniamo da un brutto 0-0 e dobbiamo riscattarci subito Queste qui sono le divise, questa qui è la formazione E noi signori ci vediamo in campo E' tutto pronto, bello il sole che sta tramontando Veramente bella questa visuale Siamo ovviamente nello stadio del Sassuolo E inizia adesso Sassuolo-Napoli Putrone, allegato all'attorato per Artur Che ha un bel tiro, vediamo se gli viene Che cosa ha fatto Artur Tiratore straordinario E' il terzo gol che va calciando da fuori aria Risponde il Sassuolo con Boateng Ottio Yuri Ciccio per Lazzari Attenzione che carica la botta questo, non si ferma Lazzari, è scritto, è scritto Ok, non è vero Boateng, era scritto, lo sapevo Un cararmato Lazzari, un cararmato Vediamo se riusciamo a rispondere Insigne, molto bello, non ci posso credere Cosa ha preso, cosa ha preso consigli La volée incredibile di Zielischi forse, non lo so Tocca di nuovo a loro, bella partita questa Veramente bella, Lazzari Occhio Lazzari ragazzi, è un Ronaldo È un Ronaldo Lazzari Fortuna l'abbiamo presa Cutrone, diventa buona per Artur Vuoi riprovarci Artur? Vediamo se ti viene Pallone fuori Ma dobbiamo provare di più Artur diventa buona per Zielischi Che appoggia per Artur Dentro per Zielischi Qualcuno che si faccia vedere Amsic per Insigne Che non sbaglia 2-1 Ritorniamo in vantaggio Amsic diventa buona per Cutrone Tocco per Zielischi Che carica il mancino E pallone che colpisce l'incrocio Se mi segna il Sassuolo adesso non gioco più Attaccano loro Occhio No, attenti a Bateng No, pallone dentro Politano Meret Meret in qualche modo All'ottantasettesimo Su difesa d'oltranza 2 di recupero adesso L'arbitro potrebbe fischiare? Ovviamente no Si continua Di Francesco fermato E l'arbitro fisca Battiamo il Sassuolo E ci prendiamo 3 punti fondamentali Andiamo a vedere subito Che cosa ha fatto l'Inter 5 tiri a 8 8.4 per Amsic Con l'Inter Che non ha giocato Va bene Lo vediamo dopo Ha vinto Ha vinto E quindi sono ancora in testa 24-23 Siamo arrivati adesso Alla partita Contro il Verona Mertens Ci chiede di giocare Ma dobbiamo vedere Chi abbiamo dopo Abbiamo il Benfica E questa partita È fondamentale Perché Mertens Mi chiede di giocare Dries Ma sei pazzo Io gli dico no Non mi interessa Tu sei stanco Riposi E giochi dopo Contro il Benfica Non contro il Verona Andiamo a simulare la partita Turnover pesante Partita molto semplice Almeno sulla carta Il Verona viene anche Da 3 sconfitte consecutive E fa anche la quarta Lavezzi Fabian Ruiz Adesso Possiamo concentrarci Per affrontare Il Benfica In una partita Troppo importante 8-6 3-2 Meretta arriva ad 87 Che crescita Che sta facendo Complimenti Mertens è deluso Ma che ti devo dire Dries Che ti devo dire C'è la partita Contro il Benfica Dai Non facciamo scherzi Mettiamo ovviamente Dentro la squadra Dei titolari Siamo in campo Ovviamente però Zierischi Scala al posto Di Amsic Con Amsic Che lascia il posto A Dries Mertens Tutti confermati Non mi privo Di Arthur Che viene da un momento Molto positivo Quindi lo butto ancora in campo Andiamo a giocare Siamo in trasferta Ecco perché È ancora più complicata Questa partita Cercheremo di fare Del nostro meglio Queste qui sono le divise Comunque Questa quella formazione E noi signori Ci vediamo In campo È tutto pronto Ci siamo Siamo qui In trasferta Lo stadio È pieno E inizia adesso Benfica Napoli È troppo importante Questa partita Troppo Attacca il Benfica Attenzione qui Salvio Appoggia dentro Ottio Jonas Si gira Con il destro Pallone sul palo Scheggia il palo E poi esce fuori Primo pericolo Costruito dal Benfica Stiamo soffrendo Insistono ancora Jonas Come giocano bene Pizzi Con il destro Ancora fuori Ancora vicinissimo Al palo Se continuano così Primo o poi La mettono dentro Odrio Zola Diventa fuori per Cutrone Bellissimo Il triangolo Lunco Ragazzi come siamo ripartiti Cutrone deve tirare Per forza Ve lo metto Perché il triangolo È stato bellissimo Non potevo non tirare Con Cutrone Il palone L'avrebbe perso Cutrone Appoggia la grande Per il sinistro Di Arthur Che la butta fuori Arthur Ha un tiro micidiale Belotti In partenza Verso dove? Verso Napoli Vuoi venire con noi Belotti Attenzione colpo di testa Qui La prende meretta Occhio qui Non ci credo Non ci posso credere Non ci posso credere Dal nulla Dal nulla Quando stavamo Gestendo la partita Da una rimessa laterale Pallone messo dentro E qualcuno Trova la zampata E adesso siamo rovinati Adesso siamo proprio rovinati Salvio Settantesimo Attaccano ancora Ragazzi devo mettere L'ultra offensiva Per forza Per forza Zielinski Diventa ancora Per Cutrone Qualcuno che si faccia vedere Non c'è nessuno Come se stessimo vincendo Arthur Occhio Arthur Il tocco Molto buono Per Mertens Che allarga Per Minicius Che la incrocia E parata di Varela Contropiede micidiale Calcio ad angolo Per la testa Di nessuno Ultra offensivo Inserito Mi dispiace ragazzi Subiremo dei contropiedi Ma questa partita Non possiamo perderla Cutrone Cutrone Il corridoio Bellissimo Per Marek Appena entrato E sulla respinta Non ci arriva nessuno Ma un po' di fortuna Quando a noi Zielinski Per la testa Di Kulibaly Tutto buono Non è Kulibaly E il nostro bomber E Patrick Cutrone Sì All'ottantatresimo Voi non avete idea Di quanto questo gol Sia importante L'ottantottesimo Sono ritornati tutti su Perché loro sono costretti A vincere La finta di Ribeiro Me l'ha fatta Me l'ha fatta Due di recupero Salvio Teniamolo lì Teniamolo lì Il cross Meret dove vai Ok bravo Quando esce Meret Ho un po' di paura Tieni da lì E chi se ne frega L'arbitro infatti Fischia la fine Uno a uno Per noi è come una vittoria Sei tiri a cinque Migliori in campo Cutrone Il Bayern Monaco Batte 4 a 0 Il Midland E noi siamo Qualificati Praticamente Questa è fatta La classifica Undici Sette Quattro In caso di sconfitta Il Benfica Andava a quota Sei E noi A quota sei E noi però All'ultima giornata Abbiamo il Bayern Monaco E il Benfica Ha la squadra Debole Quindi saremmo dovuti Quasi Costretti a vincere Avremmo dovuto vincere Per forza contro il Bayern Monaco Avete capito Grazie Cutrone Grazie veramente Ci hai salvati Offerta per Macaccio Io lo vorrei vendere questo Macaccio Come si chiama Non lo so Nei commenti ognuno Mi ha detto una pronuncia diversa Comunque È giovane Però Quando l'abbiamo messo in campo Non ci ha convinto per niente Non vanno oltre I 12 E 3 Proviamo con 16 milioni Vediamo un po' che cosa ci dicono 12 e 3 Siete fissati 14 Ed è vostro Vediamo un po' Affare fatto Molto bene Ci sono dei giocatori Che hanno una valutazione alta Ma che poi sul campo Non convincono Macaccio Sembrerebbe uno di quelli Anche se comunque Ha avuto poco spazio Va bene Partita contro il Bologna Sarà l'ultima Che andremo a giocare In questo video Con questa classifica 27 e 26 Abbiamo raggiunto Matematicamente Gli ottavi Di finale Di Champions League Perché siamo in vantaggio Negli sconti diretti Contro il Benfica Adesso Concentriamoci Per affrontare Un'altra partita Molto importante Perché quest'anno Lo scudetto È un obiettivo Facciamo riposare I due centrocampisti Centrali E per il resto Tutti confermati Signori Si va avanti così Finché hanno le gambe Per correre Per camminare Devono giocare Siamo in trasferta Comunque questa qui È la squadra Che ho scelto E noi signori Ci vediamo In campo È tutto pronto Ci siamo Siamo al tallara Le squadre sono in campo E inizia adesso Bologna Napoli Uh Grazie Grazie Cutrone Con il destro Grazie mille Skorupski Mi mancava Segnare un gol così Su FIFA 19 Un applauso Un applauso Al rilancio Di Skorupski Ho anche rischiato Perché mi stava raggiungendo Sesto gol In campionato Per Cutrone Acquisto Azzeccatissimo Senza contare Tutti quelli Che ha fatto in Champions League Compreso quello Che avete visto poco fa Attenzione però A non rimetterla Dentro per loro Non dobbiamo ricambiare Il favore di Skorupski Va bene così Cutrone Diventa buona per Hamzik Potrebbe caricare il destro Non gli viene Ma siamo fortunati La fortuna Oggi È con noi Anzi In questa partita È con noi 2 a 0 Al Bologna Gol di Mertens Tiro di Hamzik Il pallone In qualche modo Va proprio lì Sul piede di Mertens Che non sbaglia Cutrone Diventa buona per Fabian Ruiz Bello per Hamzik Che si gira Hamzik Il corridoio Per Lorenzino Che sbaglia E poi sulla respinta Non ci arriva nessuno Vorrei fare il 3 a 0 Fine primo tempo Vinicius Junior Diventa buona per Drism E Mertens Che può andare fino in fondo Alla sterzata Il cross Per Hamzik Che con il destro Batte il portiere E segna Ancora Il nostro capitano Che adesso Non ha la fascia Ma sarà per sempre capitano La mette dentro E mette a segno Il suo secondo gol In campionato Bella partita questa Ci voleva Una vittoria convincente Perché anche contro il Sassuolo Abbiamo fatto fatica Non ci fermiamo però Mertens Bellissimo Per Fabian Ruiz Che sbaglia Clamorosamente È stata anche una parata Straordinaria Di Skorupski Eh questo è giusto dirlo È entrato Bentechè Nel Bologna intanto Risponde il Bologna Attenzione qui Poli Proprio per Bentechè Che carica la botta È parata di Meretto Il primo tiro in porta Del Bologna Attenzione qui Texera di testa Lontana via Skriniar Qualcosa in difesa Stiamo rischiando Ma sul 3 a 0 Ci sta 2 di recupero E non c'è più tempo L'arbitro fischia la fine Delusione Nei tifosi del Bologna Koulibaly Festeggia E possiamo avanzare Con tre punti Molto Importanti 13 tiri a 3 Partita dominata E andiamo avanti Con la Juventus Che batte il Sassuolo E l'Inter Vince ancora La Juventus È dietro di noi A quota 25 Ma l'Inter È a quota 30 Mamma mia Campionato Impressionante Anche noi Abbiamo una bella Media punti Perché 29 punti Dopo 13 partite Non sono male Anzi Stiamo facendo Molto Ma molto meglio Dell'anno scorso Reso conto Mensile Per quanto riguarda La squadra Della primavera Allora ragazzi Ci sono dei giocatori Veramente Molto Interessanti Purtroppo E ripeto La parola Purtroppo Due volte Purtroppo Non possiamo Allenarli Tutti Perché abbiamo Solo 5 Allenamenti E non possiamo Ovviamente Escludere I giovani Che abbiamo Già in squadra Come Cutrone Meret Vinicius Per dare appunto La precedenza A uno di loro Il giocatore Di movimento Più forte Che abbiamo E lui Francesco Mancini Che gioca Nella posizione Di un giocatore Che noi conosciamo bene Ovvero Colombo Io Lo richiamo Perché Ha 16 anni E quindi Questa cosa Può essere anche Molto positiva Rispetto magari A qualcuno Che ne ha 18 O anche 17 Perché appunto Ha un anno in più Di allenamento Da poter fare Abbiamo anche Un quindicenne Ma purtroppo Gioca nel ruolo Di Vinicius E quindi Niente Invece Perderemo Mertens Perché l'abbiamo Ceduto Al Real Madrid E quindi Tecnicamente Abbiamo bisogno Di un C.O.C Abbiamo venduto Anche Macac Macac Che era Comunque Un trequartista A questo punto Dovevamo solo Decidere Quanti allenamenti Concedere A questo giocatore E' arrivato anche Il resoconto Mensile Offerta Per Vinicius Ah ok Ho letto Un milione Ma siete pazzi Invece il fake 24 anni Sono 8 stagioni Che sto cercando Di cederlo Vediamo il resoconto Comunque Vediamo se c'è Qualcuno di forte Potenziale 92 Potenziale 94 Potenziale 91 Luna Potenziale 79 94 Questo è molto interessante Ma veramente Tanto Anche Cano Quanti giocatori Giovani Mamma mia Sono veramente Impressionato Ne abbiamo Una marea Comunque Partita contro il Genova Che giocheremo Nel prossimo Episodio Io questo video Lo termino qui Abbiamo preso Mancini Ma sono veramente Molto Impressionato Da questo Quindicenne Americo Luna Americo Anzi Americo Luna Quindici 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 Anni Parte Da 57 Questo è veramente Forte Fidatevi Di me Lo possiamo Prendere L'anno Prossimo Però E lo Prenderemo Io comunque Il video Lo termino Qui Forse ho parlato Un po' Troppo Però ci Tenevo a fare Il resoconto Finale Sui giovani Perché Sono il nostro Futuro Spenderemo Spenderemo Tutto Per Lionel Messi E poi Mischieremo L'esperienza E la maturità Di giocatori Come Messi Lavezzi Pato Amsic Tutti quelli Che abbiamo Insigne Che già Si avvicina Ai 28 29 Anni Mischiate Appunto Ai giovani Che subentreranno Detto questo Io spero ragazzi Che questo video Vi sia piaciuto Non perdetevi L'episodio Di domani Perché Finiremo Tutto quanto Il mese Di dicembre Inizieremo Il calcio Mercato Di gennaio E qui Cercheremo Di portare A casa Messi O lo prendiamo Adesso O non lo prendiamo Più Domani Quindi Si decide Tutto ragazzi Mettete la sveglia Già da adesso E cercate Di esserci Io vi saluto Ci vediamo domani Massimo supporto Bella Sveglia 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 Sveglia